Con la fine del cripto inverno e la prossima entrata in vigore del regolamento MICA, sta aumentando l'interesse di almeno una parte del mondo bancario e finanziario verso i cryptoasset. Le criptovalute, lo sappiamo, sono tornate decisamente in auge e a conquistarsi i titoli dei giornali online e cartacei. E infatti negli ultimi anni è cresciuto il numero di aziende che offrono servizi B2B in questo ambito, cioè che si propongono a banche e altri player finanziari con soluzioni di brokeraggio, trading e custodia, grazie a cui può essere costruito un accesso agli asset digitali o per i clienti finali di queste istituzioni finanziarie o per altre istituzioni finanziarie. Insomma si sta un po' creando un'offerta bancaria tradizionale e regolata di criptoasset. Buona parte di questi attori B2B appartengono al mondo fintech. Noi abbiamo scelto di parlare di questo tema con Börse Stuttgart Digital che è parte del gruppo Borsa di Stoccarda, un'azienda con 160 anni di storia che non può sicuramente essere accusata di essere una spericolata startup del mondo cripto. Abbiamo intervistato Luciano Serra, country manager Italia, per capire come le banche italiane si stanno avvicinando a bitcoin e criptoasset e che cosa sta accadendo sul nostro mercato. Ne parliamo subito dopo la sigla. The Fine Banking, podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. Allora lo dicevamo poco fa, cresce l'offerta di servizi di brokeraggio, trading e custodia di criptoasset con un modello B2B, cioè per permettere a banche e altri player finanziari di offrire questi servizi ai loro clienti. Come prima cosa ci siamo fatti spiegare da Luciano Serra di Borse Stoccard Digital, quali sono questi servizi e perché l'Italia è un mercato interessante in questo momento? Borse Stoccard Digital mira ad essere il partner infrastrutturale regolato di riferimento per tutte le istituzioni finanziarie europee che vogliono entrare in questo nuovo mondo dei digital assets, quindi desiderano avere accesso per offrire eventualmente anche ai loro clienti soluzioni di trading semplici e affidabili ed un servizio di custodia sicuro nell'ambito delle criptovalute e degli asset digitali. Siamo un player che nasce in Germania e che poi si è steso a buona parte dell'Unione Europea e ovviamente l'Italia è una delle prime tre economie europee con un sistema bancario solido e avanzato e quindi noi vediamo ovviamente un grande potenziale per poter implementare il nostro posizionamento verso la clientela istituzionale che quindi ha un modello di business di tipo B2B oppure B2B C2C appunto per supportare la fornitura di servizi ai clienti di queste istituzioni finanziarie anche di tipo retail e non soltanto diciamo di tipo business. Quali sono i crypto asset che gestite? Cioè siamo in ambito bitcoin, bitcoin e altri? In questo momento noi stiamo gestendo 28 crypto assets e quindi ovviamente bitcoin, ethereum e le principali, chiamiamole criptovalute, poi sappiamo che in realtà il termine criptovaluta è riduttivo perché all'interno di questa nuova asset class ci sono, chiamiamole criptoattività per dirla all'italiano, che hanno in realtà finalità e hanno modelli molto differenti. Ci sono payment token, ci sono dei token che invece sono di investimento, ci possono essere degli stable coin, ci sono degli asset reference token che non sono diciamo agganciati a valute come si dice in gergo fiat, quindi emesse da banche centrali. Quindi è un asset class composita e bisogna ovviamente poi scendere un po' più in dettaglio. Noi però siamo molto selettivi, per questo noi oggi mettiamo a disposizione dei nostri clienti soltanto 28 di questi digital assets quando altri fornitori ne mettono a disposizione centinaia o migliaia, proprio perché sottoponiamo un processo di due diligence a tutti gli asset della nostra piattaforma per garantire che non siano appunto troppo volatili, che non siano come dire a rischio scam e quant'altro. Quindi siamo molto molto severi e selettivi nel consentire ai nostri clienti di operare in questi digital assets. Negli ultimi anni abbiamo visto un cambiamento nell'orientamento delle realtà istituzionali, banche, compagnie assicurative, società di investimento verso i crypto asset. In realtà non per tutti e non per tutti allo stesso modo. Allora chiedo a te che cambiamento avete visto proprio nell'orientamento delle banche italiane verso questi asset e, visto che parlavamo prima di categorie, ci sono crypto asset con cui le banche stanno familiarizzando di più rispetto ad altri? Sì, beh il cambiamento c'è stato ed è stato molto importante negli ultimi due anni in Italia. Ovviamente l'incertezza e i rischi associati alle criptoattività e ai crypto assets sono stati fino ad oggi l'ostacolo principale per l'adozione di massa e prima ancora per l'adozione da parte degli operatori istituzionali della finanza, quindi gli operatori della finanza tradizionale che sono abituati a lavorare in un contesto iper regolamentato, vigilato e che quindi erano spaventati da un mondo che invece era ancora privo di una regolamentazione. Qui parliamo evidentemente dell'Italia, di tutti quei paesi europei che non hanno prima dell'arrivo della legislazione e regolamentazione europea adottato una legislazione nazionale. Noi peraltro al contrario veniamo dalla Germania che è l'unico grande stato dell'Unione che ha appunto una legislazione cripto ormai da anni. Ecco il cambiamento che c'è stato è proprio legato al fatto che per circa due anni sono state in circolazione le bozze della normativa nuova chiamata MICA che finalmente lo scorso anno è stata approvata e che ha fornito questo quadro legislativo regolamentare di riferimento che consente finalmente, consentirà perché entrerà in vigore a giugno, consentirà da giugno di quest'anno appunto anche agli operatori della finanza tradizionale di poter operare con serenità chiedendo e ottenendo una licenza e potendo avviare un'attività regolata e con tutta la legittimità del caso. Era questo che spaventava, era questo che ha tenuto fuori quindi i grandi operatori della finanza tradizionale italiana ma il cambiamento di passo lo notiamo chiarissimo. Cioè ormai quasi tutti gli operatori della finanza tradizionale hanno avviato progetti o se non altro studi piuttosto che progetti che sono proof of concept che sono degli elementi come dire no di test sperimentazioni e quant'altro e molti di questi hanno in previsione di lanciare tra la fine di quest'anno l'inizio del prossimo i loro servizi quindi è questo che ha fornito il cambio di passo. Torniamo subito con il resto dell'episodio giusto il tempo di un rapidissimo spot. Citavi prima altri attori che offrono molti più crypto asset. La gran parte di questi sono in qualche modo nativamente fintech, sono nati di recente, alcuni hanno alle spalle diciamolo dei solidi professionisti del settore finanziario e dei grandi esperti di cripto, non parliamo di ragazzini con la felpa e il cappuccio. Ecco la concorrenza di questi attori che vanno sostanzialmente a offrire qualcosa di molto simile, no? Servizi B2B per le banche che vogliono espandere la loro offerta nell'ambito cripto. Come vedete lo scenario attuale della concorrenza? Sì, beh, premesso che la concorrenza è sempre positiva perché poi rappresenta uno stimolo per tutti gli attori del mercato e poi porta benefici al cliente finale, è ovvio che proprio per quello che dicevo quindi l'assenza di una regolamentazione di settore che ha scoraggiato i players tradizionali ha favorito, nel senso che invece ha visto i player fintech o nativi cripto addirittura avvantaggiarsi di questo, avviare le proprie attività con alcuni anni di anticipo e quindi oggi avere dei vantaggi in termini di competenze, anni di esperienza, track record. Ci sono quindi sia operatori nativi cripto che operatori, diciamo, fintech che hanno avviato attività in campo bancario e sistemi di pagamento che poi hanno aggiunto anche una sezione cripto e che consentono quindi di comprare e vendere criptovalute. Lo hanno fatto senza una regolamentazione, a differenza nostra, che invece ci siamo sempre mossi mediante licenze che sono state appunto conseguite in Germania secondo la legislazione tedesca, che poi è molto simile a quella poi adottata dall'Unione Europea che si è ispirata appunto alla Germania nel normale digital assets, però questo vantaggio che hanno acquisito questo non è poi a mio giudizio particolarmente rilevante perché siamo soltanto all'inizio di questo viaggio nel nuovo mondo degli asset digitali e credo che nel momento in cui i grandi operatori, le banche italiane inizieranno ad offrire questi servizi alla loro clientela, lavorando su un portafoglio clienti di milioni, di decine di milioni, ovviamente di individui, anche se soltanto una piccola percentuale, il 5% di essi inizieranno a utilizzare questo tipo di servizi e poi si faranno dei numeri molto rilevanti superiori a quelli che possono aver fatto le fintech in questi anni di anticipo in cui sono partite nel settore. Abbiamo citato il regolamento mica come un punto di svolta, c'è stato di recente un altro attesissimo punto di svolta, cioè l'ok ai primi etf su bitcoin da parte della SEC che ha avuto un certo impatto sulla quotazione di bitcoin e ha confermato un po' il nuovo corso, no? Il vento nuovo che soffia sulle criptovalute. Dal vostro punto di vista questo ok, che conseguenze sta avendo e avrà ancora sul mercato? Le conseguenze sono sicuramente molto importanti e sono su due piani. Il primo è quello proprio, come dire, legislativo e quindi di legittimità. Questa approvazione ha rafforzato e affermato la legittimità dei digital assets e quindi ha cambiato il mindset di molti operatori che attendevano il momento opportuno per entrare sul mercato e hanno visto quindi di buon grado questa approvazione per poter con serenità iniziare a lavorare in questo settore. Quindi da un lato ha semplificato l'acquisto e la detenzione di bitcoin da parte dei clienti finali, siano essi istituzionali che retail, e ha portato quindi ad ampliare molto il numero degli investitori che detengono appunto criptovalute o digital asset in senso più lato. Il secondo aspetto era quello che tu giustamente citavi. Il flusso di denaro che c'è stato in queste 6-7 settimane dell'approvazione è stato molto molto importante, parliamo di oltre 20 miliardi di dollari di nuovi acquisti, quindi di flusso netto di ETF su bitcoin e questo ha sicuramente contribuito alla crescita che c'è stata negli ultimi due mesi delle quotazioni sia del bitcoin che ha raggiunto il nuovo all time high e l'intero comparto delle criptovalute e dei digital assets ha superato i 2.500 miliardi di dollari. Quindi questo ovviamente non è l'unico fenomeno che ha generato la crescita del mercato, del volimercato, c'è sicuramente l'alvin di bitcoin, ci sono ragioni di natura geopolitica, è cresciuto tantissimo l'oro e quindi anche la metafora del bitcoin come oro digitale sta influendo molto e quindi i fattori sono tanti ma l'approvazione degli ETF da parte della SEC ha avuto e avrà secondo me anche un futuro ruolo molto importante. Ecco i numeri molto grandi che hai appena citato sul ruolo che le istituzioni finanziarie, chiamiamole ufficiali, stanno assumendo nello scenario cripto, destano qualche preoccupazione. Io mi sono fatto suggerire una domanda dai nostri amici che saluto di Crypto Agora che è un gruppo di divulgazione sul tema cripto, proprio su questo vi dicevano vedete la possibilità di un rischio nella centralizzazione ad esempio delle soluzioni di staking per quanto riguarda Ethereum o dell'ipotetica idea di un attacco del 51% su bitcoin a seguito di questa grande concentrazione perché probabilmente le masse denominate in cripto, le istituzioni finanziarie cresceranno ancora di più in futuro, no? Avviene un po' meno forse quel modello ideale, decentralizzato della prima generazione di criptovalute. Certo sì, le masse stanno crescendo, non ci sono dubbi, a mio giudizio però non ci sono dei rischi in più nel senso che parliamo del bitcoin per partire da lui, no? Che ha 15 anni di storia e come dicevamo ha da tempo superato i mille miliardi di capitalizzazione. Sono valori già talmente importanti da aver sicuramente attirato l'intenzione o l'attenzione di qualcuno che volesse in qualche modo cercare di forzare il sistema, di hackerare, di crackare. Nessuno ci è riuscito, cioè bitcoin ha dimostrato in questi 15 anni una robustezza e una resilienza veramente importanti. Non c'è mai stato nessun appunto hackeraggio o cracking della blockchain bitcoin in tutti questi anni. Adesso è chiaro che se questi 1.350 miliardi diventeranno 5.000 miliardi saranno ancora, però parliamo di dimensioni che giustificavano già da anni un grandissimo interesse da chi con fare malevolo avesse voluto tentare di. Ethereum ha una storia un po' più breve evidentemente, circa la metà di bitcoin in termini di anni di vita, ma ha una caratteristica che è quella di potersi adattare. C'è un protocollo che può essere variato, può essere aggiustato, è stato quindi modificato e migliorato diverse volte nel tempo. Io sono veramente molto confidente nella flessibilità in senso positivo, cioè nella capacità che ha la community di Ethereum di adeguare questo protocollo di consenso nel tempo per mantenerlo sicuro. Quindi da un lato la rigidità di bitcoin e dall'altro al contrario, se volete, la caratteristica opposta che è la possibilità di aggiustare, di adattare Ethereum, consentiranno a questi due grandi protocolli e blockchain di prosperare, di resistere ad attacchi di questo tipo. Quindi io sono molto molto positivo. Perfetto, una resistenza che viene da approcci opposti e diversi. Perfetto. Luciano, grazie mille di essere stato nostro ospite oggi. Grazie a te e grazie a tutti.